Cambio improvviso del tempo, da un'insolita estate di San Martino a un brusco ritorno dell'inverno. Prima di continuare ricordati di mettere un like al video, iscriverti e attivare le notifiche, per non perdere i nuovi contenuti e per sostenere il nostro lavoro. Il tuo contributo è prezioso, grazie di cuore. Dopo giorni di sole e temperature miti, l'Italia si prepara ad affrontare un repentino cambiamento meteorologico nel prossimo weekend. In questi giorni, l'Italia ha sperimentato quello che è comunemente chiamato l'estate di San Martino, un periodo insolitamente caldo e soleggiato, seguito a breve da una serie di intense piogge. Le regioni centrali e le due isole maggiori hanno registrato temperature superiori ai 20 gradi, offrendo una piacevole tregua dopo le giornate piovose. Tuttavia, questa parentesi di clima estivo sembra destinata a essere breve, poiché il weekend si avvicina. Le previsioni indicano l'arrivo di intensi temporali che porteranno un grusco calo delle temperature. Il repentino cambiamento è attribuito a un vortice polare che colpirà il paese, portando con sé tempeste violente. Le temperature crolleranno notevolmente, e alcune città potrebbero persino vedere la neve, con le zone più colpite concentrate sul versante adiatico e nelle regioni del sud. Nel nord Italia, invece, le perturbazioni meteorologiche sembrano limitate all'area del nord-est. Questo repentino cambiamento climatico mette in evidenza la mutevole natura della stagione e la sua imprevedibilità. È consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici nelle prossime giornate per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi.